Fabrizio Tamburini, si può dire il sogno di una vita che si avvera? L'inizio spero di il sogno di una vita che si avvera, perché essere invitati alla Lecture Ongström all'Accademia Reale delle Scienze Svedesi e all'Università di Uppsala vuol dire essere riconosciuti come lo scienziato, come dicono loro, eminente nel campo in cui lavori. Allora, quando mi è arrivata sta nomina, ancora a novembre, sono rimasto un po' stupito perché è un onore enorme, perché i miei predecessori, certi di loro sono arrivati a premio Nobel in pochi anni altri a premio Crawford, altri sono fortemente candidati al premio Nobel come Anton Zeilinger poi c'è il premio Nobel per la chimica, quello che ha inventato il microscopio Sted quindi sono grandissimi nomi nella ricerca Lei è il diciannovesimo, è anche il primo italiano? Forse il primo o il secondo, perché non mi ricordo se l'altro italiano, direttore al Max Planck sia, come si dice, sia italiano o di formazione italiana penso di sì, probabilmente per il cognome credo di essere l'unico precario al momento, diciamo Facciamo un passo indietro, dai fusili di luce sono passati circa sei anni ecco, in questi sei anni, oltre appunto al fatto di poter essere conosciuto meglio al mondo per questi suoi studi dal punto di vista pratico, com'è cambiato il punto di vista contrattistico? Beh, allora, io dal punto di vista contrattistico in Germania avrei ancora una posizione di professore cioè sarei lo scienziato residente a Karlsruhe ma dopo questa nomina penso di fare il colpo di matto e scappare via e andare verso l'avventura perché ho delle idee ben precise su come magari andare un po' oltre a quello che sarà la lecture è come se il vecchio Ferrari ti avesse chiamato a fare una prova nelle sue macchine in Formula 1 negli anni 70 quindi cerchi di dare il massimo cerchi di fare il salto e dopo si vedrà E' un salto ulteriore quindi questo che permette la partecipazione a Langström? Allora, Langström è un riconoscimento di fatti chi presiede questo comitato è il professor Carlson che è stato per 14 anni presidente del premio Nobel per la fisica ci sono altre persone del comitato del premio dei due premi, Crawford e Nobel e quello che mi imbarazza un po' insomma è che mi trovo grandissimi nomi davanti mi emoziona, mi terrorizza un po' ecco lo dice ecco lo dice grazie a tutti